Ciao ragazzi, allora come va? Oggi vado a rispondere a una domanda non prettamente riguardante il basso, ma in generale per chi ama, come me, registrare, registrare il basso, ma anche la voce, e un po' tutti gli strumenti. Quindi, vado a rispondere a Danny che mi ha scritto nella sezione video-lezioni del mio sito. Mitico Eagle, la mia non ha la domanda, diciamo, tecnica, ma riguarda la fase di registrazione. Come ben sai, ormai si lavora poco in studio, a me è vero, ma anche a livelli molto alti spesso ci si invia le tracce senza neanche vedersi, basta, giusto. Ecco il problema che sto riscontrando, ecco, il problema che sto riscontrando sia col basso ma anche con la voce quando registro i codi, è un fastidioso fruscio di fondo che invece vorrei eliminare prima di inviare le tracce. Consiglio e escludo problemi di bassi e di microfoni, casomai penso di più a qualche errore di settaggio di software. Grazie, Danny. Allora, sì, ho scelto per... Allora, io utilizzo sempre Logic come software, che ha una funzione che ora vi faccio vedere proprio per non annullare del tutto, ma cercare di ridurre il più possibile i rumori di fondo. Non lo uso tanto quando registro il basso, perché fortunatamente i miei bassi sono silenziosi, ma è parecchio quando registro appunto la voce. Allora, vi faccio vedere due procedure, una, come detto, è logica, quindi chi ha Apple, e una, per chi non lo ha, che è software Audacity, quindi scaricabile gratuitamente da chiunque, è un software libero, quindi chi ha Apple può andare avanti alla fase successiva, giro lo schema e vi faccio vedere esattamente qual è la procedura intanto con Logic. Allora, eccomi qui, ho registrato due traccettine, basso, rumoroso e voce rumorosa. Apro il mio Logic, andiamo a creare, vado a importare, diciamo, le due tracce. Ehm, vabbè, qui, boh, chissà l'inglese. Ok, mettiamone una alla volta, sentiamo. Diciamo, va bene, come dicevo prima, i miei bassi fortunatamente non sono molto rumorosi, Comunque, vado, eh, col tasto X, quindi quando apro, diciamo, il mix, Audio FX, expande, quindi lo trovate in, eh, dunque, Dynamics, vedete, expande, lo apro. Eh, questi sono i parametri. Ora, io mi sono fatto un preset che potete copiare spulguratamente, eliminare un Z, infatti, Da così, quindi, da così, diventa, se lo apro. Andiamo a sentire con la voce, sente forse meglio, quindi stessa cosa. Metto l'effetto, la traccia della voce. Alla prima senza. Sì, sì, prova sì, sì, check sì, prova sì. Lo accendo. Sì, sì, prova sì, sì, check sì, prova sì. Sentite, la differenza mi sembra abbastanza evidente. Quindi, nient'altro, se volete copiare i parametri, vi faccio anche uno screenshot. Poi ora, insomma, è settato ovviamente per la mia voce, per il mio microfono, ma basta spippolare un pochino qui e ci siamo. Ora apro Audacity, quindi chi è più per Windows o comunque chi ama più questo programma. È una cavolata. Allora, andiamo ad aprire. Vado diretto con la voce, dai, si fa prima. Ci porto la traccia. La vedete? Questa è la mia traccettina. Cosa faccio? Prima cosa, col tasto sinistro, comunque, insomma, seleziono la traccia, nel caso ce ne fosse due di più, quindi si illumina. Prendo, vedete, una parte, diciamo, pulita, dove non c'è segnale, dove non c'è, appunto, questa figura qui. La seleziono, ad esempio, una parte più o meno grande. Vado su Effetti, Riduzione Rumore. Lascio tutto com'è, quindi 12, 6, va benissimo così. Elabora Profilo Rumore. Clicco. Riclicco selezionando la traccia, quindi mi va via parte selezionata, mi riviene tutta. Rivado su Effetti. Rivado su Riduzione Rumore. Questa volta pigio su OK. Mi ha elaborato la traccia. Faccio Esporta. Come andiamo i P3. Vado in Download. Voce rumorosa. Stiamo corretta. A salvo. Chiudo Audacity. Le vado ad ascoltare tutte e due, quindi prima rumorosa. Rumorosa. Sì, sì, prova sì. Sì, check sì. Prova sì. E poi corretta. Sì, sì, prova sì. Sì, check sì. Prova sì. Sì, semplicemente sono le uniche due procedure che conosco per ridurre questi fastidiosi rumori che a volte sono veramente, veramente dannosi e ci perdiamo magari delle ore. Quindi è abbastanza semplice ed intuitivo quello che vi ho mostrato, almeno credo. Nel mio caso, soprattutto, ripeto, con la voce mi risolve parecchio questo problema. Spero di esservi stati utili. Spero di essere stato utile a Danny. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.